Allora, un po' benvenuto, voi sono Indie e benvenuti qua in questo nuovo fantastico video, eccoci qua su Visage L'avete richiesto, l'avete voluto ed eccoci qua, ritornati su questo fantastico gioco Come sempre non lo gioco io, ma lo giocherà questa fantastica persona chiamata Voxy Salve Siamo contento Voxy, siamo arrivati Assolutamente, che gioia, si Gioia proprio di giocare sto gioco Di brutto Finalmente torniamo su Visage per terrorizzarci un po' a morte Abbiamo finito il capitolo 1 Perché tanto il capitolo 1 ci mancava letteralmente 5 minuti di roba Quindi possiamo passare direttamente al capitolo 2 Per fortuna questo gioco ti fa passare direttamente al capitolo 2 Ti fa passare la voglia proprio Cioè volevo dire, sì, 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 no, bello, il capitolo 2 Sì, allora Nuova partita, salta la intro e iniziamo Yes, yes, allora Perché se ci ricordiamo la intro era qualcosa del tipo Ah ma niente di che è una famiglia che ammazza l'altra No, era il tizio che ammazzava la famiglia Era ansia Era ansia pura Ci rialziamo di nuovo sulla merda Grafica tra l'altro non è niente male Graficamente non è niente male Per fortuna non è in VR Perché se no Voxy sarebbe No, 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 se avrei lanciato il VR Direttamente proprio C'è un altro gioco da poterli far provare Che è in VR, che è Blair Witch Inizia la vecchietta che dice Devo prendere il petto Se vuoi, se vuoi Perché no? Salve, buongiorno Buongiorno Ciao Twain, è Rose, tua vecchia Oh 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 E' la povera signora che è un po' preoccupata per te Sì, sta sentendo No No Qua c'è una nota però Si legge bene Ok, ciao Prendiamo l'oggetto Sì Allora Conserviamo Capitolo di Dolores Nessun sogno corrò Contorto Sorry Contorta Ah, dovessi andare Si muove il candelabro Forse bisogna andare Destra Di qua Di qua Prova aprire questa porta Questa porta No, non si può aprire Ah, dovebbe essere quella Perché c'è lo specchietto Ok, sì Ah, apriti sesamo Ok, salve Sì, buongiorno Ok, la sanità ambientale Mi sta andando a quel paese Ok, c'è, c'è, ok, no Si è acceso La chiave che apre due porte Ok, qua siamo dove stavamo prima Ah, poi c'è qualcosa Aspett, 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 aspett C'è qualcosa Dove? Io ho paura che mi prenda qualcosa Qua? Senti, no, senti Qua Salve C'è qualcosa di brutto? Succede qualcosa di brutto? No? Non lo so Ok, no, è sparito È sparito lo specchio E vabbè E se lo sono rubati Mannaggia Che ho seno è andato È sparito lo specchio È andato in Africa Ok, bisogna esplorare Mi sa di andare a cercare lo specchio Mi sa di andare a cercare lo specchio Ora? Mi sa di andare a cercare lo specchio Mi sa Mi sa che lo specchio ti inseguo adesso Eh sì, io non volessi Sento sti rumori strani Che bello Allora, andiamo di qua Mi sa che lì sopra lo specchio Dici? Ah, dai, dai Ah, no, 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 no Guarda Eccolo là La dietro? Ti sta dicendo ciao Come sei? Con la luce che faccio Salve Specchio Sei tu? No, non c'è lo specchio Che succede? Ah, eccolo là lo specchio Salve Specchio Ok, una stanza della casa Non so quale sia Ansia Oh no C'è qualcuno che sta camminando sul tetto Eh sì E tu bisogna andare di lì Qua sta il bagno E beh No 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 Il pendolo no La sanità mentale sta andando a quel paese Luce Minuto della luce Ah, è un comfort plus No, le giuste Non le mandorle Ci sta anche il dentifricio Io spalmo contro qua Ma questa qua Non c'è niente No, per fortuna E vai Qua Non c'è niente Secondo me Bisogna venire giù Vai ad astra Ad astra Ad astra Ad astra Eh, guarda, 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 guarda Le chiavi Dov'è? Chiavi Sono cercato, dove? Ah, qua De, de, no, a destra Qua? Ho visto le chiavi prima Sono cercato, dove? Ah, qua Eccole qua Che, 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 no Sono meno cercato ora Semi interrato Perfetto Ok Qua la tv la lascio accesa Secondo me è meglio Meglio di sì Perché Ma sì, mi fa compagnia Ah, un'accendina Accendino? Ah, sì, è vero Che i raccendini Possono essere utilizzati come Ma il buio Possono accendere spesso Oh, cavolo, no Se mi rifiutassi di andare giù E tipo continuo a girovagare per la casa Così Alla ricerca di Bocca, bisogna fare i piatti Mettalo a fare i piatti Allora, se fosse un bastone per aprire il soffitto Dove sarei? Tornare alla luce prima che impazzisco Perché puoi accendere la luce lì? Oh, Gesù, madonna ha fatto Oh, no Chi era? Salve Desidera Salve Cosa vuole da casa mia? Che vuole? Che vogliamo fare? Vogliamo guardarci? Eh? Non funziona neanche la luce, guarda Che vogliamo fare? Io non ci vado Me ne vado Me ne vado Oh, mio Dio Non mi ha visto È probabilmente un passante Che vuole Semplicemente Boh, un autografo Due ai ladri in casa Che ti rompono i coglioni Esatto Bello che non sto manco uscendo pazzo Cioè Da me sanità mentale È a zero Quindi Chi era? È ancora lì? Che dici? Andiamo a trovarlo? Eh? Echil? Uno Due Tre Salve No, non se ne vada Ma perché se ne è andato? Qua si sono spenti tutte le luci Tutte le luci sono andate Aspetta Non è andato Aspetta, dove è andato? Boh Non era più palida idea Ah no, forse la torri a sinistra Forse la torri a sinistra Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Fammi andare prima la luce Che sennò qua ci muoio Che bella la luce Allora Avevo visto un tizio brutto Meglio accendere tutte le luci che troviamo In giro Allora Problemino Dove dobbiamo andare? Accendiamo questo Sì Oh no Allora, salve Salve Proviamo a seguirlo Che dici? Seguiamo Magari Boh Ci fa uno sconto sulla bolletta Che qua Guarda come stanno messe le luci Guarda Stanno proprio messe male Sì Oh no No Non va bene Ehi, abbiamo ottenuto il coso Ha spaccato casa mia però Sto scemo Parà, ma ha spaccato la foto I due Pecchi Perché c'è sangue della foto Appunto Questo cosa mi preoccupa Ok, abbiamo trovato l'affare per tirare giù Sarà ketchup Ok Sì, abbiamo trovato questo Un gancio lungo Questo qua L'uso Dello spacco in testa No Aspetta fammela equipaggiare Tipo Non puoi usarlo qui No Eh, vabbè Che palle Usarlo come arma Lo spaccavo in testa No Ah, che Si sono riaccese le luci Magia Andare a sinistra Era lui Era lui Mi stava fregando la corrente elettrica Sì, sì Ora ho capito dove andare Sì, sì, sì Ma so dove usarlo Mi stava fregando la corrente elettrica Palese Sono orribile Esatto Dannazione Adesso Adesso è tipo Per colpa Che riesce tutte le luci Contemporaneamente Per colpa sua Adesso dobbiamo pagare Il 50% di più di roba Oh, 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 oh Calma Ho Ho Su 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 Vado su Sicuro Ho sentito giù un rumore brutto Eh, ma la mia sanità mentale Sta andando un po' a quel paese Aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Allora Ecco qua Ok, ok, ok Siamo qui Interagisco È una vecchia sede a dondolo Ok Qua tipo Che dobbiamo fare? No Ho sentito suoni brutti Ah, ok Si è aperto qua Perfetto Andiamo giù Salve Oh, che bello Il giorno Oh, siamo morti Sento Cose che si lamentano Brutte, brutte Ok Ok, qua Secondo me qualcuno Li piace tanto questa foto Che è un teschio con un velo E l'ha spammato in tutta la stanza Praticamente C'è una chiave Dovevo cercare una chiave No, non Non Oh, che bello Si può girare Guarda Che bello No, bisogna mettere degli oggetti Dice che bisogna mettere degli oggetti Oggetti chiave che puoi conservare Ok Ok Ho trovato una cassetta Uh, che bello Conserviamo la cassetta Scarabocchi Scarabocchi Tanti scarabocchi Pure sul muro 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 3 7 Aspetta Dici Sicuro Sono scritto lì 5 0 Vedi Aspetta 5 0 7 Io dico 5 0 7 3 Ah, io vedo proprio 5 0 3, 6, 5 0, no, guarda, allora, guarda contro il muro, 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 ci sono alcuni segni che si vedono meglio, vedi? 5 0 e sembra un 3, ah, 3, sì, sì, 5 0, sì, sì, 5 0, 3, 7, sì, 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 giusto, giusto, ok, qua c'è un fiore, perché sono bloccato qua al momento, cioè, vedi che dice la videocassetta, l'audio cassetta, ah, qua devo mettere l'audio cassetta, aspetta, ah, no, aspetta, no, bugia, sono stupido, non devo metterla qua, ma devo metterla qua, giusto, allora, mettiamola qua, chiudiamo e sentiamo Ah, ok, che sono gli stessi che stiamo provando noi in questo momento Sembra Walter White Così appunto Ah, 5 number, sono 5 numeri Ah, 5 0, 3, 7, 3 Eh, eh, bella domanda, sul baby monitor Hai trovato una pantofola Ah, ecco qua, ecco, 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 la devo mettere qua ora, giusto, mettiamo la pantofola qua Wow, calma, sei rubata la felpa, calma, io E si aperta pure la porta, si aperta pure la porta, attenzione, si è rubata la felpa però, mi piaceva quella felpa Wow, wow Non vuole accendersi Oh no, c'è una persona Signora Signora Che c'è? Che c'è? Pure tu vuoi fergarmi le luci? Andiamo a dare un bacio, non lo so, non so che fare Aiuto Vai, vedo il bacino Un mizzo un patosso Bacino Ok, non vedo, non vedo nulla Manco io Sto scendo pazzo Ah no Medicinali It's time for medicine, yes Magic Magic Anzi Dove devo andare, cosa devo fare, non lo so No, perché, ok, posso mettere entrambi qua Ok, mettiamo l'accendino Ok, ho preso i medicinali E, oh Oh, segui il sangue, segui il sangue Ti tocca Ti tocca Mi sa che ha le sue cose, cioè, non vorrei dire, però mi sa proprio che Signora C'è del sangue per lei Oh mio Dio, dove cacchio va Eh, io suggerirei un bel tappo Bello grosso È molto grosso Ah no, che schifo è sta roba Ok, sì, va bene il sangue, però così è un po' esagerato, signora Signora, è esagerato? Assolutamente Dove va il pozzo dei desideri? No Ehi, in due, tre G Let's go Ah, mi devo scendere su sto Ehi, che schifo Che brutta cosa Che schifo Che schifo Che schifo, madonna Ha lasciato questo affare per noi Vuole che la seguiamo Oddio Cos'è sta roba Ehm 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 No Di nuovo il tizio di prima Ehi, dammi la lampadina Ah no Ah, ecco come fa a entrare in casa mia Passa le pareti Palesemente Oh no Tanti, tanti, tanti specchi Non vuole accendersi l'accendinolo Eh no Ehm Che si fa? Che fa ora che devi guardarli? Eh, li sto guardando tutti Sente un suono strano Ah, guarda, guarda, guarda Guarda questo specchio Guarda questo specchio Cosa? Ah, c'è qualcosa Sì, sì C'è qualcuno in questo specchio In effetti Questo qua però è diverso Vedi Il pavimento è un po' diverso E infatti è diverso Ah, la vecchietta Salve signora Bisogna di qualcosa? No Ah, ok Ogni Ogni specchio racconta una storia Mi sa Ah Ok Ok, la signora sarà impiccata Ma povero Ma perché signora, no Capito che le bollette stanno aumentando Però cavolo Fino arrivarà tanto, no Eh, sei tu che C'è tutte le luci di casa E quindi alla fine Le hai deciso Affanculo Eh, certo Ma no È tipo stronzo Però pronta notizie Sento che un rumore È provenire di qua Quindi sì Vado di qua No Ah, mi sa che devi continuare A vedere i veri specchi Penso che un'altra Ah Sono proprio più specchi Per dirti Sentivo dei passi C'erano i tuoi No, no Sentivo dei passi Che mi andavano dietro di me O sono io che sto impazzando realmente O c'erano dei passi dietro di me Probabilmente Oh Salve Signora È di nuovo viva Resuscitata Vuole un accendino No No Non c'è più la signora Ma lei mi sa che devi girarti Oh no Oh madonna Ansia Che ansia Uno due Ansia Ansia Olè Siamo morti Mi sa che mi sono spezzato Finito Finito il gioco Beh dai basta No scherzo Non c'è più la signora Non c'è più la signora